incidente in galleria muore 32enne guinza passi concreti allo sblocco dell'incompiuta infrastrutture marchigiane 250 milioni a bilancio carcere di pesero inadeguato la denuncia di laria cucchi verso pesero capitale della cultura un 2023 di progetti una buona serata e di nuovo un buon anno un buon 2023 a tutti voi amiche amici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 80 queste rossini news questo è il nostro telegiornale della regione marche che in questa edizione di martedì 3 gennaio apriamo purtroppo con il primo incidente mortale sulle strade della provincia di pesero e urbino in questo 2023 l'incidente in questione è avvenuto attorno alle 13 30 di oggi nella strada provinciale 18 che collega i comuni di sant'angelo invado e lunano a perdere la vita un ragazzo di 32 anni di fermignano perché per causa in via di accertamento si è schiantato fatalmente all'interno di una galleria a bordo della sua nissan juke contro un pilone in cemento sul posto intervenuta l'ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso oltre ai soccorsi sul posto anche carabinieri e la squadra dei vigili del fuoco di macerata feltra per la messa in sicurezza di una galleria che rimasta chiusa al traffico per diverse ore e parliamo di un'altra strada e di un'altra galleria ma lo facciamo per motivi estremamente diversi ieri infatti c'è stato il sopralluogo dei vertici della regione marche e di esponenti del governo e del parlamento alla galleria della guinza a mercatello sul metauro questo perché il 2023 può davvero essere l'anno dello sblocco dell'incompiuta fra le incompiute il 2023 delle infrastrutture marchigiane si è aperto muovendo i primi passi tangibili sul terreno dell'incompiuta fra le incompiute quello della galleria della guinza e dell'annesso completamento della fano grossetto che dopo decenni di promesse tramutatesi in carta straccia ha visto nel pomeriggio del 2 gennaio a mercatello sul metauro il sopralluogo del vice ministro alle infrastrutture galeazzo bignami accompagnato dal presidente della regione marche francesco acquaroli dall'assessore alle infrastrutture francesco baldelli e dai parlamentari marchigiani elena leonardi mirco carloni luci albano antonio baldelli il lavoro in sinergia fra regione e governo meloni ora si veste di concretezza con l'investimento statale di 150 milioni di euro sbloccati dal cipes per realizzare la prima canna della galleria partendo con i lavori già nel 2023 dopo la gara d'assegnazione da espletare entro il 30 giugno siamo venuti qua oggi perché è un impegno che si concretizza nei giorni scorsi abbiamo sbloccato quest'opera stanziando i 150 milioni essenziali per rendere funzionale la prima canna perché come voi sapete il consiglio superiore dei lavori pubblici ha subordinato l'apertura di questa strada perché i 150 milioni riguardano anche le opere di completamento viario e poi successivamente ma non troppo successivamente perché anche su quello la progettazione sostanzialmente terminata anche la realizzazione la seconda canna per garantire le quattro corsi di collegamento su tutta la due mare innanzitutto un ringraziamento al viceministro e al presidente del consiglio al ministro e alla sensibilità di tutto il governo che ha dato una priorità assoluta al completamento di questa opera che non solo era un'incompiuta ma un'incompiuta che portava dei danni enormi a un territorio perché alla fine di questo rettilineo che non arriva neanche a sei chilometri mi diceva il vice sindaco cinque chilometri 900 metri c'è l'umbria e c'è un mondo un'economia una socialità che si apre oggi la strada alternativa non è sei chilometri di rettilineo ma è 30 chilometri di curve che per essere attraversati impiegano normalmente 45 minuti nel nostro tempo questo significa abbattere di molto il collegamento tra Marche e Umbria ma soprattutto significa compiere quel tratto di Fano-Crosseto che è tra i più costosi e che quindi consentirebbe di velocizzare anche la realizzazione il completamento del tratto rimanente unire i due mari unire l'Italia est l'Italia ovest significa connettere mondi e dare opportunità di crescita che laddove è stato realizzato con infrastrutture del genere ha portato dei benefici enormi pensiamo alla 76 e la 77 tra Foligno e Civitanova tra Perugia Ancona è importante continuare in questa direzione e ci fa veramente molto piacere la sensibilità di tutto il governo che ha ritenuto dopo poche settimane dall'insediamento imprimere un'accelerazione importante. Il sopralluogo in pulmino attraverso la galleria ha consentito di verificare l'attuazione del primo passo della prima canna per poi ragionare successivamente sulla seconda canna. La seconda canna intanto è evidentemente finalizzata a garantire non una strozzatura all'ingresso tra ombre e Marche ma la continuità di servizio viario questo conoscerà dei tempi differenti mentre sulla prima canna confidiamo di andare già a gara entro il 30 giugno poi ci saranno i tempi tecnici per capire anche lo stato dopo 40 anni in cui quest'opera bloccata che troveremo ma siamo fiduciosi nel giro di tre anni forse qualcosa in più dipenderà anche appunto che cosa si trova questa arteria questa parte sarà fruibile. Alla guinza presenti anche i consiglieri regionali Baiocchi, Rossi e Serfilippi al fianco di parlamentari che hanno applaudito alle promesse mantenute del nuovo governo. Si tratta della cosiddetta questione centro Italia alla quale il governo di centrodestra ha voluto mettere immediatamente mano. Oggi tra l'altro la presenza del vice ministro Bignami in questa terra di fronte a questa canna nella dimostrazione dell'impegno concreto perché ci mettiamo la faccia perché abbiamo messo un importante impegno economico e vogliamo che anche il centro Italia possa tornare a correre nonostante questo gap infrastrutturale che soprattutto le marche scontano dopo dobbiamo dirlo decenni di letargo e di mancata visione. Sicuramente purtroppo non per nostra responsabilità si sono accumulati ritardi di decenni, ora finalmente sbloccata e dobbiamo correre per recuperare questi ritardi ma da parte nostra questo percorso è iniziato e lo vogliamo percorrere fino in fondo. Non solo guinza, quello sulla Fano Grosseto è solo la punta dell'iceberg dei corposi investimenti in infrastrutture previsti dalla regione Marche nel prossimo triennio come ci ha spiegato l'assessore regionale Francesco Baldelli che abbiamo avuto ospite oggi nei nostri studi. Al nostro insediamento circa due anni fa con la giunta a Quaroli ci eravamo posti degli obiettivi obiettivi, riportare al centro del centro Italia la nostra regione come collegamento tra nord e sud della nostra nazione ma anche come collegamento est-ovest. Fondamentale era sbloccare l'incompiuta dell'incompiuta del centro Italia ossia la Fano Grosseto. Lo stiamo facendo, lo stiamo facendo passo dopo passo, ieri è stato il coronamento, il riconoscimento di questo grande sforzo della regione Marche da parte del governo anche con lo stanziamento dei 150 milioni che ci permetteranno nei prossimi mesi di riaprire i cantieri. Ma c'è qualcosa di più, alla Guinza dovranno essere collegate la pedemontana nord della nostra regione quindi il tratto Fabriano, Sassoferrato, Serra Sant'Abbondio e Cagli ma abbiamo ottenuto anche i fondi nell'ultimo CIPES di fine anno presieduto dal capo del governo onorevole Giorgia Meloni gli investimenti e le risorse per la progettazione delle intervallive ossia delle bretelle di collegamento dei nostri territori dalla Valle del Foglia, quella del Cesano verso la Fano Grosseto con le intervallive Fabriano, Sassoferrato, Fossombrone e il collegamento tra Carpegna, Lunano e Sant'Angelo Invato. E questi sono anche i primi passi alla luce di un bilancio proiettato agli anni a venire che cambia passo sia a livello di quantità di investimenti che di qualità. Sì, grande qualità degli investimenti nel bilancio della regione Marche perché per la prima volta abbiamo inserito in solo tre mesi tra assestamento di bilancio e bilancio approvato negli ultimi giorni dell'anno appena trascorso oltre 250 milioni di nuovi investimenti per strade, edilizia sanitaria ospedaliera, edilizia scolastica di qualità, le nostre ciclovie, alcune riguardano proprio le valli della provincia di Pesorurbino oltre che la ciclovia adriatica, la sicurezza stradale nei nostri territori comunali. La regione non ha mai fatto uno sforzo così grande verso i comuni. In solo due anni oltre 40 milioni di investimenti diretti dalla regione verso i comuni perché sappiamo che i comuni, le amministrazioni comunali sono la prima trincea nei confronti dei cittadini dove i cittadini tentano di rifugiarsi per i loro bisogni. Non potevamo non essere vicini nella filiera istituzionale proprio all'ente locale e quello che è percepito più vicino alla comunità e al cittadino. Poi tanti altri investimenti. Penso al fattore Q, quello che chiamiamo fattore qualità affinché vi sia una progettazione anche negli enti locali di altissimo livello. Una progettazione che non risolva soltanto il problema delle tante buche che abbiamo sulle strade comunali o a volte anche provinciali ma che sfruttino le esigenze di sviluppo del loro territorio per creare un circolo virtuoso di sostegno all'economia cittadina. Ebbene il bilancio fa tutto questo con delle cifre ben chiare al di là di ogni dubbio. Nell'ultimo triennio delle giunte precedenti, della giunta precedente ma anche quella degli anni precedenti i bilanci stanziavano mediamente nel triennio il 9% in investimenti. Siamo arrivati ad investire il 24% delle limitate risorse che gli enti pubblici hanno a disposizione negli investimenti a favore delle nostre comunità con un picco nel 2025 perché tendiamo ad aumentare questi investimenti positivi che devono generare sviluppo economico nei nostri territori al 30,33%. Un bilancio di tutto rispetto non solo nella quantità delle risorse ma come diceva lei nella qualità delle risorse investite per le nostre comunità. Nella giornata del 31 dicembre c'è stato l'ultimo di una lunga serie di episodi di aggressione da parte di detenuti verso agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere di Epeso. Una situazione denunciata più volte dai sindacati che ora si rafforza dalla cassa di risonanza portata dalla senatrice Ilaria Cucchi ieri arrivata a sorpresa a visitare il carcere di Villa Fastigi. Al carcere di Pesaro definire la situazione d'emergenza è dire poco. Parole della senatrice di Sinistra Italiana e Verdi Ilaria Cucchi che ieri è stata accolta dagli agenti della polizia penitenziaria di Villa Fastigi che da mesi protestano contro la gestione della prigione e la mancanza di tutele come confermato dall'ennesima aggressione di un detenuto che la sera del 31 dicembre ha spaccato il naso e slogato una mascella ad un agente. Una visita sorpresa a quella della vicepresidente della Commissione Giustizia che per anni si batte per inseguire la verità sulla morte del fratello Stefano dietro le sbarre. Ilaria Cucchi ha riferito che i mesi di protesta del penitenziario pesarese sono rimasti inascoltati perché in questa struttura si va da perdite d'acqua dagli impianti idraulici non riparate da anni a pazienti psichiatrici parcheggiati come fossero pacchi accatastati e privati del diritto alla salute e alla dignità da tossicodipendenti abbandonati a se stessi a strutture ricreative fatiscenti. Tutto questo di fronte a un personale che cerca disperatamente di fare quel che può. Quella degli agenti ha detto la Cucchi è una umanità inascoltata e vilipesa detenuti e personale penitenziario sarebbero schierati gli uni contro gli altri e invece non è così e non si parla solo di carenza di fondi ma addirittura di mancata utilizzazione di quelli che sarebbero disponibili. La Cucchi ieri non ha incontrato la direttrice del carcere in quanto in ferie ma ha intenzione di approfondire l'argomento per portarlo all'attenzione del Parlamento. Parallelamente i sindacati del penitenziario sono ugualmente intenzionati a portare la questione al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. E cambiamo argomento, se il 2024 sarà l'anno di Pesaro capitale della cultura il 2023 sarà un anno invece decisivo nella programmazione di questo riconoscimento nazionale come ci viene spiegato dal vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini. È stata una programmazione pluriannale, chiaramente il coronamento del riconoscimento di capitale italiana, arrivato a marzo 2022, ci ha proiettato già da subito in una dimensione più ampia, triennale di lavoro, di lavoro 22-24 almeno ma anche con l'obiettivo naturalmente di sedimentare anche dei risultati turistici e di riconoscibilità della città, della quantità culturale non solo, anche oltre 25. In questo va anche la rete di rapporti che stiamo realizzando e costruendo con le altre capitali italiane ed europee passate, presenti e future in modo che ognuno possa fare anche la piattaforma di racconto del programma degli altri e anche di visibilità rispetto ai milioni di visitatori che saranno nell'insieme delle capitali per poter raccontarsi insieme ed è un lavoro che è nato particolarmente da Pesaro. Nello specifico noi avevamo già iniziato una programmazione almeno triennale che puntasse al 24 e che desse già il senso di un cambio di passo e di un cambio di marcia l'arrivo di Ulysses Fest, l'arrivo con la Lonnie Planet con un chiaro messaggio anche turistico ma anche mondiale l'arrivo del Caterraduno con chiaramente una visibilità per la città che non è di quei tre giorni ma è di tutto l'anno in cui si prepara l'edizione e abbiamo sempre costruito e raccontato questa strategia appunto come una strategia che guardasse almeno a tutto il 2024 cosa cambia effettivamente nel 2023 che dopo i mesi del 2022 spesi a costruire un po' la struttura della capitale italiana ora si inizia a fare sul serio. Sarà un lavoro spalmato su tutta la provincia oltre che per molti aspetti su tutta la regione e quindi anche per questo abbiamo annunciato agli ultimi stati generali di turismo la volontà di fare questi 24 per il 2024 quindi ogni 24 del mese sarà impegnato in un luogo simbolico diverso della provincia vorremmo partire da Ulysses Montana e Catria e Nerone quindi diversamente da Fontavellana o da Cantiano, Cagli insomma stiamo cercando di capire che in base alla raggiungibilità di Fontavellana e qui vorremmo partire anche simbolicamente ma raccontare l'avvicinamento territorio per territorio alla capitale 2024 incontrando gli stakeholder, incontrando quelli che saranno gli artisti coinvolti incontrando le associazioni, incontrando ovviamente le amministrazioni coinvolte incontrando anche gli imprenditori che poteranno essere una parte fondamentale dell'accrescimento del potenziale del programma oltre quelli che sono i finanziamenti pubblici e quindi insomma sarà un anno di mobilitazione il gennaio sarà un mese già decisivo e poi mano a mano che andremo avanti anche assieme alla provincia ho chiesto un aiuto particolare anche al neo rieletto presidente Paolini da questo punto di vista sarà un grande progetto che non solo ci aiuterà a fare un grande 2024 ma anche dal punto di vista comunicativo dei percorsi, dei tragitti, del trasporto pubblico, dei servizi del collegamento tra le vallate del collegamento tra gli enti locali stessi se ben speso potrà essere un grosso patrimonio che renderà la nostra provincia non solo più appetibile ma anche più forte e più interconnessa anche per gli anni a venire Biblioteca e Museo Oliveriano ospiteranno giovedì 5 gennaio dalle 16 alle 19 aspettando la Befana a Palazzo Almerici sarà un pomeriggio all'insegna della cultura e del divertimento rivolto a piccoli e adulti per scoprire i segreti della biblioteca e del museo in attesa della Befana saranno previsti laboratori didattici al museo archeologico e visite guidate alla stessa biblioteca e invece parte domani 4 gennaio la festa della Befana più nota la festa nazionale di Urbagna che ricomincia domani alle 15.30 con la consegna delle chiavi della città alla vecchina per il primo di tre giorni ricchi di appuntamenti fra le discese acrobatiche della Befana la sfilata della calza da record e tantissimi spettacoli e invece riprende il giorno dell'epifania la stagione teatrale della piccola ribalta e non è una scelta casuale infatti il 1 gennaio 2023 sono ricorsi i vent'anni esatti della scomparsa dell'indimenticato Giorgio Gaber e la piccola ribalta ha voluto dedicare una serata al suo ricordo in prossimità di questa ricorrenza dunque venerdì 6 gennaio alle 21 in serata unica ci sarà lo spettacolo ricomincio dal solito Gaber selezione dei maggiori successi di teatro canzone del grande cantautore nell'adattamento e regia di Franco Cesaroni dal teatro alla musica si sta per chiudere il quarantesimo anniversario del coro San Carlo di Pesaro che come di consueto metterà in scena il tradizionale concerto dell'epifania nella giornata del 6 gennaio al Duomo di Pesaro celebrato il quarantesimo anno di fondazione il coro San Carlo offrirà per il tradizionale appuntamento con il concerto dell'epifania un'opera completa per soli coro e orchestra mai eseguita a Pesaro finora appuntamento musicale fissato al 6 gennaio alle ore 16 nella cornice della cattedrale di Santa Maria Assunta non ci sono posti riservati insomma man mano che si arriva ci si può accomodare presenteremo un'opera in prima esecuzione assoluta a Pesaro che in realtà è un'opera di un grande compositore che è Haydn è del grande repertorio sacro di Haydn fa parte delle sue messe molto ampie sviluppate in maniera molto ampia in cui ci sono arie ci sono terzetti di solisti ci sono passi molto drammatici così come ci sono anche passi virtuosistici del coro passaggi fugati insomma quindi è veramente come un florilegio musicale che in onore a un quarto di musica porta a un'elevazione proprio penso culturale ma anche proprio spirituale enorme per tutti il risultato di questi mesi autunnali e invernali sono stati 3-4 mesi di lavoro intensissimo dove appunto avremo anche dei bravissimi solisti abbiamo come sempre l'onore di collaborare con l'orchestra sinfonica Rossini con cui c'è questo veramente rapporto di stima reciproca anche di cordialità e amicizia e insomma la loro professionalità è discursa quindi aver avuto l'onore di poterli invitare per festeggiare con noi questo quarantesimo è proprio come la ciliegina sulla torta per noi ormai siamo partner del coro da diversi anni un coro importante rappresentativo molto della città di Pesaro si ritorna in un posto anche molto importante anche se l'anno scorso già eravamo mi sembra in prefettura lo stesso che merita tutta l'attenzione ma quest'anno credo che per la cittadinanza sia di nuovo ritrovarsi in un luogo importante ma soprattutto ascoltare queste persone che sono veramente molto molto in gamba e rappresentative e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo come di consueto la nostra prima serata che alle 21.20 porterà ad approfondire quella che è stata la conferenza di fine anno della CNA di Pesaro e Urbino al cantiere Navale Rossini tanti temi legati al mondo dell'imprenditoria nello speciale realizzato dal nostro Antonio Astuti e proprio Antonio sarà a tenervi compagnia anche domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali della provincia di Pesaro Urbino che come ogni mattina vi tiene compagnia di buon'ora dal lunedì al sabato come sempre in diretta dalle 7.20 e torna a tenervi compagnia anche la nostra Roberta Esperide che avete potuto apprezzare nelle scorse settimane aspettando il Natale con Roberta ora c'è aspettando la Befana con Roberto un nuovo appuntamento che è iniziato oggi alle 19 e che continua con nuove puntate tutti i martedì e i giovedì con repliche il mercoledì e il venerdì alle 17 e il sabato alla domenica alle 12 e alle 18.45 ed è davvero tutto anche per quello che riguarda i nostri appuntamenti si chiude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon anno in compagnia dei programmi di Rossini TV